Roberto Montà, il suo comune è quello che ha vinto, ci vuole raccontare brevemente intorno a cosa ruota, qual è il fulcro del progetto che ha presentato e che è stato selezionato come vincitore del contest Italia Connessa? Il mio comune, che è appunto Grugliasco, un comune di 38.000 abitanti nell'area metropolitana di Torino, io credo che sia stato selezionato perché ha rappresentato non solo una visione di progetto di sviluppo digitale, ma anche alcuni asset strategici già disponibili. Il primo elemento è il fatto che noi abbiamo 24 chilometri di cavetti già posati, in ampliamento che raggiungono il 57% degli abitanti e i principali siti di interesse della città. Poi noi abbiamo sviluppato il nostro progetto intorno a 5 aree strategiche, che sono l'area della formazione e della conoscenza, noi siamo sede di una parte del polo scientifico dell'Università di Torino, abbiamo una serie rilevante di istituti tecnici, di scuole secondarie e secondo grado, quindi abbiamo una vocazione alla formazione molto importante. Siamo un polo industriale riconosciuto nella filiera dell'automotivo, ospitiamo le principali grandi aziende del settore, da Comau a Maserati. Siamo un polo della logistica significativo, perché sul nostro territorio ci sono i mercati generali e c'è un sito di interporto rilevante. E siamo un polo commerciale straordinario, perché ci sono due siti commerciali che fanno sì che a Grugliasco annualmente circa 18 milioni di persone vengano. Tra l'altro poli commerciali che hanno una fidelizzazione con la loro clientela, tenete conto che abbiamo circa 70.000 persone connesse con questo sito commerciale. A fronte di questa situazione, a fronte di queste opportunità, noi abbiamo immaginato un piano di sviluppo digitale che parta dalla valorizzazione delle infrastrutture, e della disponibilità di questi attori che ho elencato a partecipare a un progetto che metta insieme le loro esigenze con le opportunità del Comune, dove il Comune svolge la funzione di governance e di attuazione del progetto. È chiaro che la partnership con Telecom per noi è straordinaria, perché ci dà la possibilità di mettere la fibra all'interno dei cavedi e soprattutto di costruire un progetto che per noi significa cambiare volto la città, immaginare l'idea di una città digitale. Io ho detto all'altra premiazione che il punto di forza dei Comuni delle nostre dimensioni è che hanno la grande capacità di avere una relazione forte con gli attori del territorio e con la comunità. Noi riteniamo di poter far crescere la nostra comunità nel pensiero digitale e far diventare una comunità in grado di rispondere alle sfide dell'Agenda 2020. Una sola domanda per una risposta molto breve. Dovendo dare un consiglio, un advice a altri comuni come il suo che parteciperanno alla futura edizione di Teleconnessa, da dove bisogna cominciare a guardare? Quando si comincia a costruire un progetto di questo genere, dove bisogna mettere subito l'occhio? Secondo me bisogna mettere subito l'occhio sul proprio territorio, fare una fotografia della realtà che ci sono, i punti di forza, i punti di debolezza e soprattutto costruire, laddove non ci siano, c'è un anno di tempo, costruire delle relazioni con il territorio, con le imprese, con le attività economiche, con i rappresentanti del mondo della formazione. Io credo che siano stati questi i punti di forza che ci hanno dato la possibilità di essere selezionati perché noi con loro abbiamo costruito una relazione per cui dalla prossima settimana inizieremo a lavorare operativamente per dare corpo a questo progetto. Grazie. Grazie a voi.